Sei un autotrasportatore? Stai cercando una soluzione per trasformare il tuo camion? Ciao, sono Umberto di Trekpoint, centro di assistenza e installazione e vendita di accessori estetici per camion. Vi aspetto il 26-27 maggio, al weekend del camionista a Misano Adriatico. Poi potrai trovarci e trovare insieme a noi le varie soluzioni, tra cui le scritte luminose by Trekpoint. Le scritte con telecomando si distinguono per la possibilità di cambiare la correzione, passando dal rosso, verde, blu, bianco. A 12 o a 24 volt da mettere sul tuo camion, sulla tua auto, sul tuo furgone, con la possibilità di regolazione di bassa e alta luminosità. Ho realizzato la scritta Filippo con i 46 da Umberto di Trekpoint circa due anni fa e devo dire che la scritta è ok. Le applicazioni in acciaio, i tubi, i bull bar. Ho fatto le file del mio camion con tutto l'acciaio esterno e gli interni tappeti e copricopone. Potrei trovare inoltre quello che sono tutta la parte dei ricetrasmittenti cibichi, il cosiddetto barachino, tra cui le antenne by Trekpoint, titanium e power e il mitico Alan 48 con relative modifiche, riparazioni e installazioni. Ho conosciuto il Trekpoint qualche anno fa, per fama diciamo, perché sentendo un po' su internet, guardando un po' di notizie, tutti lo raccomandavano come uno dei migliori centri, assistenza, montaggio, smontaggio, baracchini. Sono qui a Umberto, al Trekpoint di Zona, perché credo sia uno dei professionisti più in gamba d'Italia. È uno dei pochi posti dove veramente ho trovato serietà e professionalità. Potrai trovare inoltre anche la Unipol, la pasta metal polish lucidante, per rigenerare tutto quello che sono i tuoi cerchi in lega, serbatoio, carotteria, parte in plastica lucidate e cromature. Ciao da Mani, io all'Unipol lo consiglio ai miei colleghi. Potrai trovare anche tappeti e copricofano per il tuo camion. Coprisi udili su misura. Tende per ogni cabina. Consiglierei Trepoint Umberto ai miei amici, perché è 20 anni che lo conosco e mi dà fiducia in quello che prendo. Io consiglio ai miei amici e colleghi di passare alla Trekpoint, dare uno sguardo e vedere, perché c'è molta serietà, gente molto valida e prodotti molto buoni. Ti aspetto il 26-27 maggio, al weekend del camionista a Misano Adriatico. Ciao!